10 semplici palleggi niente di più facile per carità ma le ragazze ne saranno capaci io direi di no però voglio concedergli il beneficio del dubbio e di conseguenza metterle alla prova vediamo un po' Neschio proverò in questa impresa e ti smentirò ai 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 caro Neschio a casa mia si dice che quando gioco si fa duro i duri iniziano a giocare caro Neschio vediamo subito Forza Napoli Forza Napoli Morale della favola mai sottovalutare l'altro sesso e soprattutto mai fare di tutta l'erba un fascio per cui ho imparato la lezione e mi sto zitto che dire amici se il video vi è piaciuto lasciate un like se non vi è piaciuto lasciate lo stesso tanto che vi costa seguite le ragazze seguite pure me in descrizione trovate il link di entrambi e a questo punto ci salutiamo col solito abbraccio di Neschio se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina facebook iscriviti al canale youtube e seguimi su instagram iscriviti al canale iscriviti al canale